Ok, è stata arredata con la... Sì. Buongiorno. Buongiorno. Con pieno di tutti i fiori. Grazie. Come sono questi signori? Prego, prego. Ciao, prego. Giuseppina, non prego. Grazie. Ma non fai intercomando. Non l'aveva detto, sì, però... Ha visto il prestigio, eh? Un altro spettacolo. Io non posso, ma sono... No, sa qualche cosa, sì. Adesso la metti in tasca, se ne mangiate la boccata. Eh, la boccia è buona. Sì, sì, se volete io... Un ottimo caffè, grazie. Allora, grazie, grazie. Io la ringrazio immensamente. Grazie, tanto. Posa la rinforzo. A voi, grazie. Grazie. Grazie a tutti.